Guardi, Presidente, davanti alle parole del collega che mi ha preceduto, non il collega Mollicone, ma il collega migliore che peraltro rispetto, e cioè i bambini ci guardano, francamente mi chiedo quale problema abbia la sinistra con i bambini e lo dico ancora una volta su questo provvedimento. I bambini ci guardano, sì, e spero che qualcuno ci stia ascoltando perché io oggi mi voglio rivolgere soprattutto a loro, ai bambini stranieri che sono in Italia e che state utilizzando come una bandierina, in maniera strumentale, per una proposta di legge assolutamente ideologica e strumentale agli interessi ancora una volta, così come avviene in determinati altri temi degli adulti. Io, Presidente, credo che i bambini che ci guardano vogliano vivere anche quegli stranieri in un Paese che affronta temi prioritari, dove certamente c'è il loro destino, ma il loro destino è se vivono in un contesto che sa affrontare le emergenze del momento. E invece noi si ritrovano, i bambini che ci guardano, con un Parlamento che nel giorno in cui la benzina schizza ancora una volta le stelle, la crisi internazionale, ricade sulle nostre teste, fa terrore non soltanto ai cittadini italiani, ma anche a molti stranieri per bene. Si parla non solo dello iususcole, ma anche della cannabis libera. Io voglio proprio vedere se quei bambini che ci guardano e le loro famiglie sono tanto contenti di vedere che la loro proposta di legge è portata avanti, la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore e portata avanti dalle stesse forze politiche che regalano la droga per le strade. Io non credo che questo parallelismo vi faccia tanto bene, amici della sinistra. Non credo proprio e credo che oggi apriranno gli occhi, a maggior ragione apriranno gli occhi i cittadini italiani rispetto a quello che fanno alcune forze di maggioranza in questo Parlamento e apriranno gli occhi sul modo strumentale in cui portate avanti proposte di legge tirando per la giacchetta i bambini e i cittadini che ci sono in questa nazione. Noi chiediamo che entrambi i provvedimenti portati avanti strumentalmente in quest'Aula vengano espulsi dal calendario di quest'Aula e lo chiediamo in maniera particolare proprio oggi perché ancora una volta, come ho già detto, questo parallelismo e questo dibattito avviene in maniera strumentale. E alle forze che si dichiarano di centrodestra presenti in quest'Aula io voglio dire solo una cosa. Non avete fatto questo governo probabilmente per approvare lo ius soli mascherato? Non avete fatto questo governo per approvare la cannabis libera? Non avete fatto questo governo per dare spazio, come ho sentito, alla sharia? E allora staccate la spina fuori dal governo! Questo governo deve andare a casa. Arrivando al merito del provvedimento basterebbe riascoltare sia l'intervento del relatore che l'intervento del collega migliore che hanno introdotto il loro supporto a questo provvedimento per capire cosa c'è dietro. Entrambi i colleghi a sostegno dello ius scuole hanno motivato il loro sostegno richiamando gli italiani all'estero e quasi minacciando di togliere la cittadinanza agli italiani all'estero e criticando lo ius sanguinis. Questo è stato l'incipit e questo è stato il modo in cui hanno introdotto il loro sostegno a lo ius scuole e hanno così gettato la maschera nel loro sentimento fortemente anti-italiano. E infatti questo è un provvedimento anti-italiano e la condotta che viene assunta in quest'Aula è profondamente anti-italiana nel momento in cui si chiede di discutere questi due provvedimenti davanti al contesto generale che invece attraversa l'Italia. Si è detto anche no, possiamo discuterlo questo provvedimento. Questa questione di urgenza che pongono fratelli d'Italia, ho sentito adesso i colleghi della Lega, non modifica i calendari, la possibilità di andare a discutere altri provvedimenti che vanno ad incidere invece su quelle delle emergenze. Benissimo. Allora non abbiate più la faccia di porre le questioni di fiducia chiamando all'urgenza e alla mancanza dei tempi. Non abbiate più la faccia di porre ancora una volta un ricatto nei confronti dei parlamentari ponendo questioni di fiducia, perché la prossima questione di fiducia verrà ancora fuori una volta le vostre bugie. Ho sentito parlare di discriminazione, ho sentito il Presidente Brescia dire ma a chi toglie? E poi dire che il Paese è un Paese che ha colto certamente tanti stranieri che hanno costruito in Italia la propria casa, la propria famiglia. Sì, ma non ha accolto soltanto l'oro. Purtroppo noi tutti i giorni sulle nostre coste vediamo un'Italia che accoglie tutti, che non fa differenza sul rispetto delle regole, che non distingue lo straniero che sta in Italia, che lavora, che paga le tasse, che manda i suoi figli a scuola e da quello che invece non lo fa. E allora la prima discriminazione viene proprio da chi non fa questa distinzione. I primi discriminati sono proprio gli stranieri che hanno fatto un lungo percorso di integrazione. Io, visto che sento tanta anche saccenza rispetto a questo tema, come se la verità fosse sempre e soltanto dall'altra parte e invece noi fossimo persone zotiche, brutte, che assolutamente non vivono la realtà di molte persone straniere che vivono in Italia, io riporto qui in quest'Aula una dichiarazione, un'affermazione che mi ha fatto proprio una cittadina straniera, una persona straniera divenuta cittadina che mi ha detto uno non basta, uno che rispetta le regole non basta per fare, per riconoscere un processo di integrazione compiuto in Italia. E allo stesso tempo io dico, la cittadinanza non basta. Non è la cittadinanza che fa l'integrazione, è l'integrazione che fa il cittadino e fa la cittadinanza. Ed è vero, collega Migliore, che questo è un paese dove l'Italia deve garantire il percorso scolastico, deve garantire cure gratuite, deve garantire l'accesso ai servizi essenziali, garantisce addirittura il reddito di cittadinanza che il cittadino non è, l'Italia, il suo, lo fa. Però, come sempre avviene, quando un paese, e l'Italia è una grande nazione, ti fa ospitalità e ti accoglie sul proprio territorio, allora serve anche riconoscere quanto il paese ospitante sta facendo nei tuoi confronti. Ed è qui uno dei punti principali che ci divide. Le forze di sinistra, insieme al Movimento 5 Stelle, stanno di fatto, e l'hanno detto, demolendo la struttura dello ius sanguinis, ritenendola obsoleta e sostenendo che debba esserci uno ius soli. Ma lo ius sanguinis incarna, concettualmente, il più grande concetto di patria, perché la patria è la terra dei padri, non è la terra in cui nasci, magari casualmente, è la terra dei padri. E quindi c'è un vincolo, sì, di sangue, tra la patria e quindi la nazione di provenienza è te stesso, è il tuo destino. E questo essere terra dei padri si coniuga con un altro, un'altra cosa, la lingua. Madre, quando è che noi non ci sentiamo esclusi? Quando noi comprendiamo perfettamente la lingua e quindi comprendendo la lingua capiamo tutto ciò che ci circonda e le sue dinamiche. E il connubio, il matrimonio tra il padre e la madre, questo matrimonio, ci rende autenticamente cittadini. L'altro giorno in Piazza Capranica è stato inscenato un matrimonio a sostegno di questa legge. Io sono andata a approfondire il flash mob che è stato realizzato. La prima osservazione che è naturale fare è che in Italia ci si sposa a 18 anni. Perché? E soprattutto non ci si sposa per procura, perché un genitore lo chiede per te. Allora, oltre a essere impropria all'iniziativa in sé rispetto alla tematica, questo ci introduce nelle grandi criticità di questo disegno. Perché disegno di legge? Perché è stato detto un po' di tutto. Io veramente, anch'io, ho sentito delle scorrettezze rispetto al contenuto di questo provvedimento. Intanto, questo provvedimento non prevede che il minore frequenti dei cicli scolastici. Può frequentare uno o più cicli scolastici, ma può anche frequentare un qualsiasi corso di formazione perché maturi i cinque anni per acquisire la cittadinanza italiana. E questo non è ius scuole. Perché lo ius scuole prevederebbe, come minimo, la scuola dell'obbligo. Questo prevederebbe lo ius scuole. Voi non prevedete la scuola dell'obbligo. E quindi questo non può essere definito uno ius scuole. E il percorso di acquisizione della cittadinanza non può essere associato alla frequentazione della scuola dell'obbligo. Perché non è un requisito richiesto. Sono richiesti cinque anni di frequentazione di un qualsiasi corso. Facciamo chiarezza. E quindi, visto che i bambini ci vedono, voi non fate distinzione tra il bambino che inizia le scuole elementari, arriva alle medie e poi continua al liceo. Rispetto all'altro ragazzo che entra nel nostro territorio, non conosce la lingua italiana e fa cinque anni di un qualsiasi corso di formazione per poter acquisire la cittadinanza. Voi questo non lo fate. E senza fare discriminazioni, senza dire, senza fare discriminazioni, questo è. Quindi non distinguete il percorso da non percorso. E ancora di più. Neanche fate una valutazione nel merito. Avete provato con un emendamento raffazzonato a dire che dopo cinque anni di elementare bisogna uscire dalle elementari per avere la cittadinanza. E vabbè. Se nei cinque anni sono computate le scuole elementari, ma se nei cinque anni non si maturano gli anni di scuole elementari, ma si maturano gli anni di un qualsiasi corso, non c'è nessuna valutazione. Non è verificato se conosce la lingua italiana o meno. Non è verificato se conosce la nostra Costituzione che ha le basi del nostro ordinamento. Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Avete detto che è un provvedimento che riguarda i ragazzi, che è fatto per i ragazzi. No. No. È fatto per gli adulti. Mi spiegate che senso ha in una nazione che deve garantire la scuola dell'obbligo, deve garantire il welfare, deve garantire cure gratuite, deve garantire giustamente la socialità, anticipare la soglia dell'acquisizione della cittadinanza dai 18 anni a un momento in cui il diretto interessato è ancora minore. Perché? Perché acquisendo il minore la cittadinanza, il genitore che è soggetto a un provvedimento di espulsione o che potrebbe essere soggetto a un procedimento di espulsione, non verrà espulso. E voi state utilizzando i minori per questo motivo. E bisogna dirlo agli italiani, chiaro e tondo. Perché altrimenti non si capirebbe come mai non volete che questa acquisizione della cittadinanza avvenga ai 18 anni, che coincide proprio con il momento in cui si matura il diritto di voto. Non è neanche per dare il diritto di voto, eventualmente garantirlo ai minori, perché i minori non possono votare. Quindi non è come dite, come avete paventato voi. Altra maschera che viene gettata. È il minore. Perché voi non lo fate per il minore? Semplice, si vede leggendo il testo. Perché voi non chiedete neanche che venga ascoltato. il diretto interessato di un diritto-dovere fondamentale come quello della cittadinanza. In un contesto in cui gli esseri italiani dovrebbe essere una scelta quotidiana, voi neanche vi ponete il problema di ascoltare il parere del minore. Perché per voi il minore è zero. E una bandia... Bambini, guardateci. Per loro il minore è zero. Per loro i vostri diritti sono zero. I bambini ci guardano. Guardateli. Neanche chiederanno il vostro parere. Ma chi lo relegheranno? Ai genitori. All'inizio erano entrambi i genitori. Poi con un emendamento, così, pensavano che non ne tenessimo troppo conto è diventato un solo genitore. Un solo genitore. E questo è un altro colpo gravissimo al nostro ordinamento che si fonda sulla parità genitoriale dove il papà e la mamma hanno gli stessi strumenti e la stessa potestà nei confronti dei figli. Parità genitoriale vale per tutto quello che riguarda i minori tranne per un diritto così importante come la cittadinanza o i buoni. E come mai? un colpo al nostro diritto di famiglia un colpo alla parità all'interno della famiglia un favore a quei contesti che invece dovremmo combattere dove c'è un soggetto debole che subisce e un altro che invece fa da padrone all'interno della famiglia e soggioga tutti gli altri componenti e non venitemi a dire quello che ho sentito in commissione che le donne finalmente potranno andare in maniera indipendente a chiedere la cittadinanza per il proprio figlio. E certo perché una donna soggiogata esce di casa va a chiedere la cittadinanza per il proprio figlio pensa che il marito che la mette in una situazione di che prova a metterla in una situazione di inferiorità non se ne accorge e torna a casa tranquilla e serena. No, questo dove avviene? Nel paese di Bambi? Perché nelle nostre nella nostra Italia questo non avviene. Ve lo comunico non avviene. Mi chiedo dove sono le femministe? perché loro dovrebbero eventualmente difendere il fatto che ci deve essere una parità genitoriale. No. Lo facciamo noi e ci crediamo. Parità genitoriale. Parità genitoriale. E anche se ci fosse nuovamente la richiesta la volontà di entrambi i genitori il minore ripeto non verrebbe ascoltato. Motivo per cui io dico a quei ragazzi che hanno fatto quel flash mob e a chi ci guarda che su un diritto così importante deve essere il diretto interessato ad avere l'ultima parola in capitolo. E quindi o è ascoltato prima o se no si aspettano i 18 anni quando viene riconosciuto il suo volere giuridicamente con un valore forte all'interno del nostro ordinamento. In Italia non ci si sposa al di sotto dei 18 anni e questo ha un motivo perché nei 18 anni viene ritenuto maturo di essere consapevole delle scelte delle conseguenze delle tue scelte e lo stesso deve avvenire per la cittadinanza altrimenti non è un matrimonio un matrimonio combinato quei matrimoni combinati che in Italia non vorremmo più vedere. Chi è che rimane escluso rimangono esclusi e presi in giro tutti coloro a cui in queste settimane sono state raccontate oggettivamente è stato raccontato un altro provvedimento addirittura il presidente Fico addirittura il presidente Fico ho letto che nel giustificare questo provvedimento ha detto davanti a dei ragazzi questi ragazzi hanno 10 concludo questi ragazzi hanno 10 anni hanno fatto le scuole dell'obbligo non capisco perché non debbano diventare cittadini italiani e perché non debba passare lo just school semplice perché questo just school non è un just school non prevede la scuola dell'obbligo e non prevede che i ragazzi devono stare da 10 anni in Italia neanche il presidente Fico conosceva correttamente questo provvedimento questo la dice lunga su cosa avete raccontato agli italiani in questi mesi grazie grazie